Abbiamo il diciottesimo PlayRout, Aleksandr Podunov. Здравствуйте, Aleksandr. Come ti piace il tournir? Era interessante? Mi piace molto, è stato il primo tournir. È stato fantastico, sono molto contento. Il primo tournir è stato in questo plan, no? Sì, sì. Ha detto che è la prima volta a Kiev, la prima volta a SPT, il tournir gli è piaciuto tanto e quindi è soddisfatto del gioco. A quanto hai avuto? 1800 milioni euro. Ha chiesto che ha vinto 1800 euro. A cosa ti ha privilato a fare questo tournir? Hai parlato di amici o no? Ho chiesto di amici, amici, e ho chiesto di andare. Ho chiesto di cosa le ha convinto a partecipare a un tournir del genere. Cosa le ha spinto? Ha detto che ci sono stati i suoi amici, soprattutto, che hanno influito molto, hanno preso i suoi soldi praticamente, quindi ha dovuto venire per forza. Ho chiesto di amici, ma ho chiesto di amici per il prossimo tournir? Professionista o amatore di poker? Lui ha detto che gli piace giocare, per adesso sta imparando e a volte pratica anche poker online. Ha un po' c'è nezza poker online e gli live? No, adesso, ovviamente, live. Ah, è proprio il primo live, eccedente, un buonissimo risultato. Quindi ha detto che è molto più intrigante per lui, ha cambiato l'idea, quindi vorrebbe partecipare anche ad altri live. A вообще, quali le vostre emozioni dopo questo tournir? Sì, molto, molto, molto. Poi, 50 grammi, vado, spiego, spiego e tutto va bene. Sì, oggi è la vicerina organizzata, voi anche potevate? Noi non lo conosciamo, ora lo conosciamo, ma probabilmente potevamo. Ho chiesto come si sente dopo essere uscito, quali sono le prime emozioni. Ha detto che alla fine è molto soddisfatto, ha detto adesso faccio qualche sciottino. E gli ho chiesto se sapeva della serata che è organizzata stanotte da parte di SVT. Non lo sapeva, quindi gli piaceva partecipare molto volentieri. Grazie a tutti.